Buongiorno, oggi riprendiamo a parlare di Mikael, quel personaggio molto affascinante dell'Antico Testamento e non solo. Ricorderete nel video precedente intitolato appunto Parliamo di Mikael, ad un certo punto, quando vi ho fatto vedere la linea lungo la quale si trovano sette importantissimi centri di culto, questa linea di Michele appunto che unisce Schelling Michael con il Monte Carmelo, quindi va insomma dall'estremo nord dell'Europa fino alla terra di Israele e vi avevo accennato alcune cose, adesso ne vediamo altre, qualche altra curiosità. Per esempio vi avevo accennato che almeno in due siti, il Mont Saint Michel e il monastero che si trova sull'isola di Simi nel Dodecaneso, Michele è sovrapposto, è stato sovrapposto ad un precedente culto del dio Apollo, nel senso che a Mont Saint Michel si trovava una zona, un luogo di culto dei Celti dedicata al loro dio Beleno che viene normalmente identificato con Apollo e nell'isola di Simi, appunto, qui nell'abitato di Panormitis c'è questo culto che si è instaurato, pare, su un precedente luogo dedicato al famosissimo e conosciutissimo dio greco e quindi questa sovrapposizione era interessante. Beh, devo dire che in effetti è stata talmente interessante che il professor Gian Matteo Corrias mi ha segnalato una cosa, mi ha segnalato uno studio del professor Sanna, uno studio pubblicato nel 2007 che si intitola I segni dell'ossia cacciatore e uno studio di accuratissima filologia greca nella quale si esamina, con la quale si esamina il personaggio di Apollo, ovviamente non sto a raccontarvi tutti i particolari di questa tantissima analisi e ricostruzione storico-filologica delle vicende e delle caratteristiche di Apollo, ma in sostanza per arrivare alla conclusione che Apollo con ogni probabilità potrebbe avere delle origini semitiche, cioè potrebbe essere una divinità non, come dire, nata in Grecia ma nata in altro luogo e poi, diciamo, spostata lì. Ecco, quindi queste possibili origini semitiche di Apollo sarebbero ovviamente coerenti con questa identificazione con Michele in almeno... o comunque spiegherebbe questa identificazione con Michele in almeno due punti, cioè San Michele di Normandia e il San Michele che si trova sull'isola di Simi nel Dodecaneso. Poi c'è un'altra curiosità, anche dal punto di vista turistico, molto interessante. Vi ho parlato dell'altro centro di culto che si trova al largo delle coste della Cornovaglia, che è Michael's Mount, cioè il Monte di Michele, che è un'isola che ricorda esattamente Mont Saint Michel in Normandia. Bene, a due ore e mezza più o meno di auto da questo sito a largo delle coste della Cornovaglia si trova un altro sito importante dedicato al culto di Michele e si trova a Glastonbury Tor, cioè la collina di Glastonbury e lì c'è una torre, St Michael's Tower, che è una torre molto bella, molto caratteristica, una torre che è stata costruita senza una volta, senza un soffitto, quindi a cielo aperto ed è dedicata appunto a Michele. Lì ci sono delle cose interessanti perché la leggenda, o comunque il racconto riportato da uno storico, un religioso gallese, che è Giraldus Cambrensis, ci racconta che nel 1191 vi sarebbero stati trovati i resti di Re Artù e di Ginevra e quindi viene identificata un po' con Avalon, resti che poi sono stati spostati in altro luogo. Ovviamente questo non ha, come dire, una certa, una sicura documentazione storica però ha una leggenda curiosa e interessante anche perché questa localizzazione ancora una volta al tempo dei Celti probabilmente faceva parte di un circuito difensivo, quindi ancora una volta questo culto di Michele, questa torre dedicata prima a una chiesa, poi appunto questa torre che è rimasta dedicata a Michele sarebbe, come dire, stata inserita all'interno di un territorio che aveva comunque di nuovo una valenza militare, tanto per ricordare appunto questo discorso di Michele che abbiamo visto l'altra volta era definito in ebraico, nel libro di Daniele, Had Asarim HaRishonim, uno dei capi, i primi. Tra l'altro, rimanendo nel nord dell'Europa, ho visto che Michil, cioè quindi questo termine nelle lingue nord-europee, per esempio in Islandese, nell'Antico Sassone, nel Proto Germanico, eccetera e indica forte, grande, quindi ancora una volta questo personaggio è identificato con la Forza e la Forza vi fa tornare in mente quello che vi ho detto l'altra volta che a Skelly Michael, il regista della saga di Star Wars, ha girato le scene finali di uno dei dei suoi film che è il ritorno della Forza e quindi c'è questo concetto tipicamente militare, insomma, che sempre rimane legato a questo personaggio. Poi proseguiremo questo discorso in itinere, quindi oggi facciamo come dire un video un pochettino particolare, però prima vorrei ancora vedere con voi alcuni dei passi che i testi apocrifi dedicano alla figura di Michele perché nella Bibbia è citato tutto sommato abbastanza poco, negli apocrifi lo è decisamente di più e ne vengono sottolineate anche qui di nuovo alcune caratteristiche che mi fa piacere condividere perché è una figura che veramente si sta rendendo molto affascinante e sta, come dire, prendendo sempre più importanza col passare del tempo. Qui siamo nel libro dei Giubilei che sappiamo è un testo apocrifo per la cristianità romana, invece è un testo canonico per la cristianità copta, quindi per loro è un testo vero. Quindi qui quando si parla insomma di Dio, del cosiddetto Dio, dice che dice che egli infatti ha molti popoli e molte genti e lui ha dato a queste genti degli angeli, cioè in realtà dei capi che li seguissero e dice però ma non dette ad alcun angelo il potere su Israele perché egli solo è il loro principe, li protegge e li rivendica. Ecco qui nelle note fa notare una cosa di cui vi ho parlato nel video precedente. Quando vi dicevo Michele risulta essere il protettore di Israele ma mi stupivo del fatto che essendo Israele un popolo che ha contatto diretto con Dio, mi chiedevo che bisogno ha di un intermediario, ovviamente, visto che Israele può parlare direttamente con il Capo Supremo e qui nelle note in effetti fa notare questo. Per quanto i popoli siano di Dio, Israele appartiene a Dio in maniera tutta particolare, questo è un concetto che ripetiamo continuamente, perché è un regno di sacerdoti, cioè sacerdoti non nel senso di persone che devono occuparsi delle anime ma nel senso di individui che si devono occupare degli interessi del Dio. Dato questo rapporto strettissimo tra Dio e Israele non esiste nessun intermediario tra i due, mentre secondo altre tradizioni Israele è protetto dall'arcangelo Michele. E qui cita Daniele 13 che andiamo a rivedere un attimo, Daniele 13, 21, quando Daniele viene visitato da un personaggio che gli racconta tutta una serie di cose e questo personaggio tra l'altro dice che ha dovuto combattere contro il principe di Persia. Ora, quando si dice principe di Persia non si intende il regnante umano del regno di Persia ma si intende quell'entità, una di quelle entità che sono state distribuite tra i vari popoli e che stanno al di sopra dei regnanti umani e dice ma il principe del regno di Persia mi ha ostacolato per 21 giorni, però ecco che Michele, ed è qui che viene definito uno dei primi principi, è venuto ad aiutarmi. Io l'ho lasciato là, presso il principe del regno di Persia e sono venuto qui per dirti eccetera eccetera eccetera. E poi ancora al versetto 23 dice ora io riparto per combattere contro il principe di Persia contro il principe di Persia contro il principe di Persia. Ora è interessante intanto notare come questi cosiddetti angeli, pure entità, puri spiriti, fatti soltanto di amore eccetera, in realtà questi angeli a cui sono stati assegnati vari popoli si combattono tra di loro e Michele interviene su questo, tant'è che nel versetto 23 del capitolo 10 si dice ora io riparto per combattere contro il principe di Persia, io parto ma ecco viene il principe di Grecia, tuttavia io ti indicherò ciò che è scritto nel libro della verità, nessuno mi presta aiuto contro costoro, cioè contro questi principi, se non Michele il vostro principe, cioè qui viene detto che Michele è il principe di Israele, cioè quello tra i cosiddetti angeli che si occupa in modo specifico di Israele, ma Michele è più potente degli altri, cioè sta al di sopra perché aiuta questo individuo, questo vestito di lino, a combattere contro gli altri principi e questo è molto interessante perché ci aiuta a collocare, collocare questa figura di Michele nella sua posizione che è indubbiamente una posizione di superiorità, di decisa superiorità. Se noi andiamo avanti sempre nei testi apocrifi, andiamo... prendiamo il primo volume dei testi apocrifi e andiamo a leggere ancora che cosa se ne dice, vediamo che a Michele vengono affidati anche dei compiti particolari. Allora, e qui siamo nel testamento ebraico di Neftali, allora il santo disse, discese dal suo cielo il più alto e fece scendere sulla terra 70 angeli del servizio con Michele alla loro testa, cioè Michele è un capo, appunto, di altri individui. Ordinò a ciascuno di loro di insegnare alle 70 famiglie che erano uscite dal fianco di Noè 70 lingue. Quel giorno stesso Michele, e quindi la divisione delle lingue, è come dire una scelta, la ricordiamo, è narrata anche nella Bibbia, quella masoretica, dove si parla della costruzione della torre di Babele e poi di ciò che è successo dopo, quindi la divisione in lingue per dividere i popoli. Quel giorno stesso Michele portò un messaggio da parte del Dio e disse a ciascuna delle 70 nazioni, voi conoscete la ribellione che è in voi e la congiura che avete fatto contro il Signore, ma ora scegliete oggi stesso chi volete servire e chi sarà il vostro Mediatore in cielo, cioè si dà una possibilità di scelta. Ora, se si dà una possibilità di scelta vuol dire che ci sono diversi elementi tra i quali scegliere perché altrimenti se ce n'è uno solo la scelta va da sé che non è possibile. Nimrod il malvagio, a Nimrod ho dedicato due video, Nimrod il malvagio disse per me non c'è nessuno più grande di colui che insegna a me e alla mia gente la lingua di Kush nel giro di un'ora. Risposero anche Put, l'Egitto, Tubal, Yawan eccetera eccetera ma la cosa interessante è Abramo. Quando però Michele si rivolse a nostro padre Abramo, Abramo chi scegli e chi vuoi servire? Abramo rispose io scelgo ed eleggo colui che parlò e il mondo fu, colui che mi creò nel vente di mia madre corpo dentro un corpo. Io a lui mi unisco e unisco la mia discendenza per tutti i giorni del mondo. Quindi qui, a seguito di questa sollecitazione di Michele, pare di capire che è Abramo che sceglie Dio, non Dio che sceglie Abramo e questo è decisamente molto interessante. Tra l'altro mi ha richiamato un passo della Bibbia, un passo di Giosuè, lo andiamo a vedere assieme perché perché è interessante, è un passo nel quale si ritorna a parlare di questa scelta che è una scelta curiosa visto che dalla Bibbia scaturirebbe il cosiddetto monoteismo. Quando Giosuè riunisce i suoi per cominciare, diciamo così, la conquista della famosa terra promessa, la terra di Canaan, li riunisce e dice se poi vi sembra duro servire il Signore, scegliete di oggi stesso chi volete servire, se gli Elohim che i vostri padri hanno servito di là dal fiume, che significa in Mesopotamia, o gli Elohim degli Amorrei nella cui terra voi abitate, io e la mia famiglia però serviremo Yahweh. Cioè qui Giosuè dice ci sono tanti Elohim che potete scegliere, ci sono addirittura quelli a cui si rivolgevano i vostri padri che ovviamente sono diversi da Yahweh e dice voi scegliete chi volete, io scelgo di stare con Yahweh. Ecco, questo è interessante perché riprende quest'altro concetto della possibilità di scelta e ci dà l'idea ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, del fatto che gli Elohim erano tanti e tra di questi si poteva o addirittura bisognava scegliere. Qui addirittura ci si racconta che appunto Michele invita Abramo a scegliere e Abramo sceglie ovviamente quel Dio lì. Ma sempre rimanendo negli apocrifi dell'Antico Testamento, in questa magnifica edizione della UTET, andiamo avanti a trovare conferma in altre, altre conferme, meglio, sulle caratteristiche di Michele insomma che è il personaggio che sta diventando per me sempre più affascinante che, come ho detto l'altra volta, sta suscitando l'interesse di molte genti, usiamo questo termine biblico, di molte genti nel mondo. Qui siamo nel libro dei Segreti di Enoch dove si parla degli angeli di tutti i popoli, cioè, come dicevo prima, di questi individui che stanno al di sopra dei governanti umani dei singoli popoli. Anche i popoli, come le sfere celesti, sono guidati da angeli. Tra l'altro sfere celesti, non so se vi è mai capitato di vedere quella simpatica elaborazione che la NASA ha fatto delle onde elettromagnetiche, delle onde radio che vengono emesse dai singoli pianeti e le ha trasformate in suoni. Sono suoni tutti diversi, anche molto belli da ascoltare. Questo però mi ha fatto tornare in mente le parole degli antichi che parlano del suono delle sfere celesti. La NASA, diciamo così, ha prodotto questi suoni generati dalle onde elettromagnetiche delle sfere celesti, è una cosa molto curiosa. Comunque, anche i popoli, come le sfere celesti, sono guidati da angeli ma la loro funzione in questo caso non emerge chiara. Nel libro di Daniele gli angeli dei popoli lottano fra di loro, proprio in Daniele capitolo 10, quindi di nuovo qui viene rimarcato questo fatto curioso. Queste entità che stanno sopra i governanti umani lottano tra di loro ovviamente per questioni di potere. E Michele sembra il più forte di questa classe di angeli, quello al cui volere devono tutti in definitiva piegarsi. E perché devono tutti in definitiva piegarsi? Perché lui è effettivamente un personaggio che sempre qui nel libro dei segreti di Enoch viene definito in un modo particolare. Ad un certo punto si dice Michele, il grande arcangelo del Signore, mi rialzò e mi condusse davanti al volto del Signore. Qui nelle note il curatore dice arcangelo è tradizione incerta, tradizione non traduzione, tradizione incerta. Il termine arcangelo è secondario, è preferibile archistratega perché è il titolo che gli compete, quindi un grande stratega, il capo degli strateghi. E qui cosa fa Michele? Michele ha condotto Enoch durante questi suoi viaggi, diciamo, nella casa dove abita il capo supremo. E il capo supremo disse a Michele prendi Enoch che spoglialo delle vesti terrene e ungilo di olio benedetto e rivestilo di vesti di gloria. Michele mi spogliò delle mie vesti e mi unse di olio. Ecco, questo è interessante, cioè per entrare nella casa degli Elohim bisognava essere puliti, assolutamente puliti, direi asettici. Questo valeva anche per il tempio di Yahweh nel deserto dell'Esodo dove coloro che avevano, quindi i sommi sacerdoti, Aaron e la sua famiglia, che avevano la possibilità e il dovere di entrare nelle parti più interne della dimora di Yahweh dovevano lavarsi accuratamente e anche lì usare degli oli, degli influenti e quindi ungilo di olio. Quindi mi viene in mente questo Enoch che viene spogliato, lavato e ricoperto di olio, forse questo per evitare contaminazioni, chissà. Allora, comunque qui si dice che è un archistratega e la cosa viene ancora ripetuta un'altra volta, sempre nei libri segreti di Enoch e quando è Dio che parla al popolo e dice poiché io ti darò un intercessore Enoch, quindi si rivolge a Enoch per rivolgersi poi al popolo, il mio archistratega Michele perché lo scritto della tua mano e lo scritto della mano dei tuoi padri Adam o Seth non saranno distrutti. Quindi Michele ha tutta una serie di compiti, è un archistratega, comanda sugli angeli e deve tutelare il fatto che ciò che è stato scritto, quindi le memorie che vengono messe per iscritto in modo che rimangano per l'umanità, che rimangano, che facciano parte del patrimonio di conoscenze dell'umanità, sono affidate in un certo senso alla cura di Michele che deve fare in modo che non scompaiono ed è per questo che Michele diventa in un certo senso il protettore di Enoch, questo individuo, questo patriarca biblico che gli Elohim portavano avanti e indietro con loro facendogli fare tutta una serie di viaggi stupendi all'interno dei quali gli fornivano tutta una serie di indicazioni, di conoscenze, di carattere scientifico, astronomico eccetera, queste dovevano essere scritte a beneficio dell'umanità e Michele doveva sovrintendere anche a questo. Quindi Michele è un personaggio veramente importante, veramente molto affascinante che vale la pena approfondire. Negli Apocrifi ci sono molte altre cose ma le vedremo, le vedremo eventualmente successivamente. Adesso io direi di fare una cosa. Se avete voglia mi accompagnate e facciamo un salto assieme da Michele. Per la verità facciamo un salto assieme alla Sacra di San Michele, io sono già pronto per la camminata, faremo 500 metri di dislivello e andremo a vedere per ora dall'esterno uno dei suoi centri di culto più importanti. Noi siamo qui sulla linea di Michele, io vi sto parlando dalla linea di Michele e adesso, tra un attimo, andiamo a cominciare la camminata per arrivare qui, cioè precisamente per arrivare là. Andiamo sulla vetta del Monte Pierchiriano dove la Sacra si trova da più di mille anni ormai perché hanno iniziato a costruirla, diciamo, verso la fine del primo millennio dopo Cristo e da allora la Sacra sta, come dire, facendo la guardia all'ingresso della Valle di Susa in provincia di Torino. Qui siamo all'inizio della salita che ci porta alla Sacra di San Michele, faremo 500 metri di dislivello, quindi arriveremo circa a un'altitudine di circa mille metri sopra il livello del mare e quindi andremo a trovare proprio Michele in una delle sue case, in uno dei centri di culto che lui si è fatto costruire. Qui racconteremo sia la storia sia la parte anche cosiddetta leggendaria che però è molto curiosa e molto affascinante e quindi cominciamo a camminare. Ecco, qui siamo ormai vicinissimi alla nostra meta e di qui potete vedere bene, apprezzare benissimo proprio l'imponenza, la forza di questa costruzione che Michele ha voluto per sé e poi vedremo come l'ha voluta, come l'ha scelta, come l'ha indicata e qui si capisce anche questa forza di attrazione che ha, che fa sì che almeno negli ultimi anni veramente stia aumentando in un modo incredibile il numero delle persone che ci sale. Sono decine di migliaia di persone che ogni anno ci vanno, ovviamente volendo arriva anche in macchina, ma cosa più bella è fare la camminata che abbiamo fatto noi. E qui mi viene in mente, pensando alla forza di Michele, ad una cosa che vi ho raccontato nel video Great Reset già nella Bibbia, dove ho letto quella lettera che il prelato del Vaticano, Monsignor Viganò, ha scritto per denunciare, vabbè, i comportamenti del Papa e per denunciare anche l'azione che viene condotta da una elite occulta che sta cercando di portare avanti un programma a livello mondiale, un programma di condizionamento e di controllo totale sull'umanità. E lì, in quella lettera, lui si appella a Yahweh, cioè al Dio della Bibbia e io lì ho già detto che, insomma, proprio le indicazioni che lui dà e le indicazioni che paiono essere seguiti da questa elite mondiale si trovano già nella Bibbia. Però in un altro video, curiosamente, Monsignor Viganò, invece di appellarsi a Yahweh, si appella proprio a Michele e qui la forza veramente di Michele la si vede tutta in questa location che lui si è scelta e, come vedete, non è soltanto costruita sulla cima della montagna, ma è costruita attorno ai bastioni di roccia della montagna e uno di quelli spunta anche all'interno del pavimento della chiesa. Ma quando avremo modo di visitarlo all'interno poi vi spiegherò altre cose. Per adesso proseguiamo dall'esterno per capire l'importanza strategica di questo sito scelto da Michele, l'archistratega. Ecco, come vedete siamo ormai arrivati. Lassù c'è la Sacra di San Michele. Questa è la prima costruzione che si incontra ed è conosciuta come il sepolcro dei monaci. La chiamano così perché era quando hanno scavato qui alcuni decenni fa hanno trovato degli scheletri, ma in realtà non è un sepolcro, non è mai stato un sepolcro vero e proprio. Era un battistero, un battistero a pianta ottagonale e il fatto che fosse un battistero sta a documentare l'importanza di questo sito che si è scelto Michele, che aveva una grandissima importanza strategica, poi lo vedremo da un'altra prospettiva. E chi è che l'ha costruito? Secondo la storia l'avrebbe costruito un piccolo nobile francese originario dell'Alvernia, Ugo di Montboisier, il quale diciamo così pareva condurre una vita un pochettino dissoluta e quindi si è recato dal papa per avere una sorta di assoluzione. Il papa era Silvestro II che era tra l'altro il primo papa francese nella storia del papato romano, proveniva anche lui dall'Alvernia ed era, si chiamava Gerberto d'Oriac, quindi nobile francese, papa francese, tutti e due originari dello stesso territorio che hanno di fatto costruito questo centro di controllo, perché di questo si trattava. Gerberto d'Oriac era un uomo di grandissima cultura, studiava l'aritmetica, studiava l'astronomia, studiava le cosiddette scienze del trivio e del quadrivio e poi però è stato presentato anche come mago e quindi hanno cercato di metterlo alla berlina per parecchio tempo, proprio perché ovviamente lui uomo di scienza conosceva cose e quindi faceva probabilmente anche cose che agli altri risultavano essere magia e quindi hanno cercato di veramente screditarlo. Poi però la sua figura è stata fortunatamente recuperata e quindi insomma gli sono stati riconosciuti i suoi meriti. Il fatto che fosse un battistero lo possiamo vedere poi da un particolare che adesso andiamo ad osservare. Ecco adesso ci stiamo avvicinando alla parte, a un elemento fondamentale di questo battistero, lì vedete la fonte battesimale, vedete sulla destra che c'è ancora una parte del muretto, anche sul fondo che è stato distrutto, quindi dovete immaginare che il muretto ovviamente era costruito tutto attorno e poi vi vedete sul fondo, nell'angolo a sinistra, il canaletto di scolo delle acque e quindi qui dentro venivano immersi i battezzandi. Quindi questa è come dire la documentazione dell'importanza che aveva questo sito dedicato a Michele. Ecco qui potete apprezzare la posizione e la valenza strategica del sito scelto da Michele, vedete lassù dei ruderi che sputtano dalla roccia, sono ruderi della Sacra di San Michele e al fondo vedete la valle di Susa. Quel territorio che c'è lì sotto non a caso si chiama la Chiusa perché è proprio il luogo in cui si chiude l'ingresso nella valle ed era conosciuto nel passato come le Chiuse dei Longobardi. Ne ha parlato anche Mazzoni nella sua tragedia alla Delchi dove ha raccontato appunto della grande battaglia che è avvenuta qui tra i Longobardi che stavano accampati alla vostra destra e i franchi che sono arrivati guidati da Carlo Magno, siamo alla fine dell'VIII secolo d.C., i franchi guidati da Carlo Magno che sono arrivati da questo territorio, quindi dalla Francia e dopodiché sono riusciti ad accerchiare i Longobardi e a prenderli alle spalle, li hanno sconfitti e poi hanno dilagato lungo la pianura padana fino a Pavia dove c'era il regno, la capitale del regno e dove regnava a desiderio il padre di Adelchi. Però questo è un posto storicamente molto importante dal punto di vista strategico tant'è che ne ha parlato già anche Giulio Cesare nel suo Debello Gallico. Qui sotto c'era il territorio chiamato Ad Fine Scoziarum, cioè il confine con il territorio dei Cozzi, una grande tribù celtica. Qui vivevano molte tribù dei Celti contro i quali Giulio Cesare ha dovuto combattere, quindi strategicamente importante già nel passato. Erano stanziate sui versanti della valle, c'erano i Graio Celi ad esempio, da cui deriva appunto il nome di Alpi Graie. Ecco, ma la cosa interessante qual è? Che su quel versante, dall'altra parte in un luogo chiamato Celle, un eremita, Giovanni Vicenzo, aveva iniziato a raccogliere materiale, cioè ammassava pietre e legname per costruire appunto un centro di culto a Michele. Ora cosa succedeva? Succedeva che lui preparava questo materiale e poi di notte Michele con i suoi lo prendeva e in volo lo portava qui. E questo è successo per un po' di tempo per far capire insomma a questo Giovanni Vicenzo che qui lui voleva il suo centro di culto. Quindi così come Michele si è fatto vedere, l'abbiamo detto nell'altro filmato, si è fatto vedere a San Michele in Puglia dove poi appunto gli hanno costruito il centro di culto, dove si è fatto vedere i Benedettini in Inghilterra eccetera. Qui non solo si è fatto vedere ma qui insomma secondo il racconto ovviamente sarebbe intervenuto direttamente proprio non soltanto a parole ma di fatto avrebbe dato il suo apporto prendendo il materiale dall'altro versante della valle e portandolo qui per avere poi questo luogo di strategica importanza ed è un luogo che poi in effetti nei secoli ha svolto questa sua funzione fino a che è arrivato un momento della sua decadenza per poi essere ripreso nella seconda metà del 1800 e diventare di nuovo un centro importante e adesso è diventato un centro che effettivamente come dire attrae con la sua forza migliaia e migliaia di persone tra cui anche molti pellegrini che visitano i vari luoghi dedicati a Michele e devo dire che appunto in questa figura di Michele che ha varie funzioni, l'abbiamo letto prima anche nei testi apocrifi, è una figura che personalmente mi ha sempre un pochettino affascinato anche se nella Bibbia ha una se volete una valenza direi nella Bibbia direttamente ha una valenza secondaria però diciamo così se chissà un domani io fossi costretto a dover scegliere tra la figura di Yahweh e la figura di Michele quindi dovesse affidarmi ad un El, sapete che Michele deriva dall'ebraico Mi-Ka-El, cioè chi è come un El? Beh io mi affiderei a Michele se dovessi veramente essere costretto a fare questa scelta perché mi è più simpatico, mi pare che fosse sicuramente più colto anche per i compiti che gli venivano assegnati e poi francamente lo ritengo anche più affidabile perché mentalmente più equilibrato. Ciao! 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 Ciao!